buonasera buonasera dalla locanda del barone stasera niente di così eccezionale niente di fantascientifico la cosa facilissima da fare che lo parlano anche i bambini sì 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 le bestecche di reali che un taglio della mucca la vacca appunto in concia una concia che ci ho messo io senza olio senza niente sulla sulla piastra è come se è come se se la se la facesse su ai ferri qua di piastra con sopra l'aglio rosmarino e la concia appunto poi dopo 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 come contorno è uguale cipolla cipolla tropea insalata spadellata e in padella di spadelleta sì 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 ma torniamo sulle bestecche di reale è un taglio è un po alto ma è molto è molto tenero infatti adesso tra un po' spiego perché ora ok ragazzi benissimo adesso vi do una buona nottata buon sabato sera come sempre un bacetto alle femminucce ciao ciao alla prossima ricetta ciao ragazzi e ragazze ciao ciao